Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris ha consegnato nella sala della giunta di Palazzo San Giacomo a Raffaele Carlino, presidente della squadra napoletana di calcio femminile Carpisa Yamamai e dell'azienda Carpisa, un riconoscimento ufficiale della città per l'attività che porta avanti da decenni insieme al fratello Maurizio e alle sorelle Mena e Luisa. Carlino, che dal 2001 è presidente della Cuvera, azienda detentrice del marchio Carpisa, leader nel settore borse, valigerie ed accessori moda, guida un'azienda che conta circa 650 punti vendita nel mondo con franchising, sviluppato in importanti città come Londra, Dubai, Madrid, Barcellona, Lisbona e Lavana, dando lavoro a circa 2000 dipendenti. Un riconoscimento che sicuramente porterò nel cuore perché ho sempre creduto nella mia città, ho voluto rimanere a Napoli a tutti i costi e credo che i premi, soprattutto voi date da un primo cittadino, ci fa solamente piacere. È un premio che io ritiro a nome della mia famiglia, i miei figli, i miei collaboratori, 2000 dipendenti che fanno parte di questa incredibile famiglia che è riuscita a portare il nostro brand napoletano in tutto il mondo.